Ciao a tutti ragazzi e ragazze del vostro Gigi di coccini video dove siamo tornati finalmente con Minecraft Ho fatto un nuovo mondo in creativa, questa casa adesso la arrederemo e vi farò due domande Non sarà un video lunghissimo, tanto per farle vedere, questo qua è una cosa che ho inventato con il basalto Prima che sembra che sta gocciolando qua dentro Raga, almeno 20 like questo mini video, poi sarà piccolino e piccolino Tanto per arredare casa e chiedervi alcune cose E niente, spero che vi piaccia il ritorno di Minecraft Fatemi sapere se vi volete appunto il ritorno di Minecraft, altri video, cose simili, anche delle live Perché no, intanto iniziamo a arredare E volevo chiedervi, a voi, mi piace il mio canale? Cioè lo guardate tutti i giorni, mi piacciono i video, mi piace vedere, mi piacciono i contenuti Perché se no mi piacciono, a me ditemelo Che porto altri contenuti, tipo Faccio sempre live di Fortnite Non volete? Quindi dite, fai live di Brawl Ma anche bene Rocket League Io Rocket League ce l'ho sulla PS4 Quindi se volete possiamo farlo E niente, quindi ditemi la vostra E niente Sono portato a Minecraft perché mi sembrava giusto Visto che il canale è nato tutto per questo E quindi mi sembrava giusto onorarlo Mettiamola così Ho avuto i miei primi 20 iscritti su Minecraft E poi sono arrivato ai 25 Ho fatto uno speciale Sono arrivato ai 50 Dopo due ore della pubblicazione del speciale ai 25 iscritti Sono arrivato il giorno dopo ai 70 E un mesetto, due o tre settimane dopo Subito ai 100 Ho fatto, non ho fatto manco lo speciale Perché sono arrivato subito ai 200 se non sbaglio Dopo arrivare mentre ero in vacanza ai 200, 250 Quando sono andato a casa Appunto sono arrivato, come vedete adesso, 300 E il balzo da 300 a 400 è stato epocale Poi è stato un botto E l'ho arrivato fino a 450 Quindi ero deciso Mettiamola così Di arrivare ai 500 E entro poco Però ho avuto una specie di calo Non so dovuto a cosa Però ho avuto questo calo E non so perché se non portavo più video Non mi piacevano più i miei video Comunque ho avuto questo calo Ditemi cosa ora pensate voi Perché io se non vorrei creare un alibi Mettiamola così Però molti dicono che YouTube Togli di iscritti Io non so se è vero o no Però potrebbe essere una cosa Non sto difendendo il mio canale Ho anche sbagliato Devo fare il scobalino Perché sono pure sbagliato Perfetto E niente Fatemi sapere la vostra Minecraft Non so se portare Perché i miei miei video erano tipo Costruisco la casa E roba varia Che poi non ho mai continuato E erano abbastanza noiosetti Poi c'era io che avevo tipo il raffreddore Sempre E quindi non avevo tipo il respiro di un Opossum Non lo so Hashtag Opossum nei commenti E comunque Ero molto noioso Me ne sono accorto Così ho pensato di riportarlo Ma Mi farei una domanda Secondo voi è meglio che faccio questo tipo di video qua? Oppure sono un po' noioso Inizio a portare Proprio delle Come tipo fa Lion Dei Proprio delle vere Proprie storie Quindi dell'avventura Mettiamo Delle game Roll Non mi sbaglio Si chiamano così E niente E allora devo andare a vedere Poi da sopra Come era casa Mi sembra Carino Questi colori Tutti sanno Ok Ok si Sta fermo Joystick Non ho un joystick Altro giorno Tipo ho visto Nel mio nuovo video Ditemi Se volete anche vedere Una reazione Al mio primo video Perché in effetti È bastato molto tempo Da quando Ho fatto il mio primo video Ditemi se volete La Reazione Fatto danno Ho fatto Dopo Ho detto Il Vedete L'azione Perché comunque È carino La bene Che figata Aspetta Un attimo Ok E' uscita anche A 1.17 Verso dicembre Se non sbaglio Quindi Facci di meglio Se non Ho fatto anche Una fontanella Tanto per Ok Ehm Niente Quindi Fatemi sapere Dimmi che se volete Altri Altre tipo Serie Tipo Un esempio Stupido Che ci avevo pensato Già Era Io non mi ricordo più Perché Stupido Tipo portare anche Delle Bedwars Perché no L'avevi iniziata a fare Tipo in un video Però quel video Durava mezz'ora Ed era un po' Un casino caricato Se avete com'è E Ti ho messo Un belletto giallo Che non guasta mai Che ho fatto Non ho fatto niente I temi un po' I temi se appunto Vi piace minecraft E volete che lo riporti Lo scorsi qua Sono gli alveari Però Secondo me Potrebbero essere Belli Come dei comodini Sì ci sta E quindi Veramente Io sono felice Di portare cose nuove Quindi Non Esitate a chiedermi tutto Allora Qua ho messo l'area Cosa voglio mettere Ancora Delle librerie Scusate Visite Poco durerà Poco a poco Ancora Tre minuti Anzi Un minutino Perché posso anche Nel tanto Per chiedervi queste Piccole cose Che vi ho chiesto Fino adesso E Dimmi Ecco una cosa Se volete Che Fatemi sapere Chi ha minecraft Sotto nei commenti Se volete Che Che faccia Ecco scusate Mi va a termine Un server Di minecraft Così ci divertiamo Tutti insieme Dove solo che Cercare un tutorial Perché non ne sono capace O se volete Sono anche felice Perché Ho sempre Sempre voluto Fare un server Quindi Dissimi voi Potrebbe essere Una bella idea Non lo so E Direi di fare Anche la Zona cucina Dove metto Questo Ok E niente Non consiglio Di video Tipo Video Di razioni Che forse Ne registro Uno Per a finire Questo video In realtà E E Veramente Io Ascolto voi Volevo fare Che passava Ma Non si sente Vero Non si sente Ma pazienza Va bene Lo stesso E Metto Dei fornelli Sopra E Apri A finire Un video Non so Quali Uscirà Prima Dove Faccio Il box Opening Quindi Potete vedere Entrambi Nel dubbio Metto La k Sopra E poi Posso Anche Finire Questo Mini Video Ho fatto Un casino Ho fatto Un doppio Casino Voilà Qui Guarda Lì Ok Aspetta Un attimo Ok Se voleste Tipo Dei video Di forne Perché se faccio Solo live Però In effetti Video Non sarebbero Mai Da fare Perché Ok Perfetto Sono messo a posto Mi piacerebbe Portare il video Però Tutto dipende Da voi Come vi piace Il canale Come volete Che Continui Io intanto Sto cercando Una cosa Che non trovo Perché sono Stupido Sinceramente Dite se volete Che porti Creativa O Sopravvivente Perché a me piace Giocare in creativa Perché ho tutto E tutto quanto Però anche In sopravvivenza Non è male Comunque Si ha Non riesco Di divertirlo Ma paziente Quindi lo lasceremo Così Raga Io direi Che può bastare Così Quello che volevo Dirvi Ve l'ho detto Se volete Anche Punto Delle serie Come ho detto Prima Fatemelo sapere La vostra Libera scelta Raggiungiamo Almeno i 20 like Quindi Ditemi Se vi piace Il ritorno Mettiamolo così Di minecraft E niente Mi raccomando Iscrizione Like Iscrizione Campanella E noi ci vediamo In un prossimo video Bella Bella E noi ci vediamo I